fino a questo punto diciamo che mi aspettavo qualcosina meglio sinceramente le prime tre gare per i miei errori o per diciamo un po di problemi tecnici non siamo riusciti a raccogliere quanto potevamo però sono abbastanza fiducioso per le prossime gare stiamo risolvendo alcuni problemi di setup io mi sto adattando meglio alla macchina quindi diciamo che sono abbastanza fiducioso per il finale della stagione sicuramente spa è uno dei circuiti più belli che ci sia in europa addirittura forse anche al mondo veramente un piacere guidare queste macchine su questo bellissimo circuito e spero di correrci ancora nei prossimi anni su questo circuito diciamo che l'avversario più temibile sicuramente il meteo perché non si sa mai cosa potrebbe succedere di oggi a sole quindi le condizioni cambiano continuamente è sicuramente lo rouge diciamo che l'icona di questo circuito è veramente una curva adrenalinica dove si sente molto la compressione sul collo e è veramente la forse la curva più bella che ci sia ciao a tutti